Ehi ciao ragazzi sono Zero e oggi siamo qui su Dark Souls 3 pronti a proseguire da dove c'eravamo lasciati nello scorso episodio E finalmente sono andato avanti e ho ucciso un po' di nemici, molti nemici, tanti nemici E mi sono trovato di pronta a due semplici soluzioni Inoltre ho ucciso anche il cavaliere nero come potrete vedere dallo scudo perché l'ho crafta, cioè l'ho trovato insomma da lui Eccolo qui quanto è bello vero? Quindi sono andato di qui e ho trovato ben due strade La prima che portava a una specie di boss, credo sia un boss perlomeno E la seconda invece che portava un cacciatore con uno spadone gigantesco Quindi ho detto ma andiamo prima dal boss E però nei miei cammini e nei miei viaggi ho trovato questo tizio Adesso proprio in questo momento, quindi dico salve, chi è lei? Aha, lo dica a sua madre E' molto bello con tanti nemici sotto, davvero E' di compagnia, chiedete a prendere le stregonerie? E' perché io faccio un po' schifo con l'intelligenza giustamente Vabbè, ho capito, grazie, grazie Vaffanculo Vabbè, a sto punto ragazzi non possiamo imparare le stregonerie E' la cosa più malata che potrei mai fare in un videogioco in questo momento Però ragazzi, vaffanculo Aspetta, devo caricare un altro po' l'arma così tu muori di più Momento Ah, e che cagare fare? Sì, è così E' così, signore Vabbè, cagare che sei scarsi... No! Fiaschette di merda! A te e chi le inventate? E ovviamente mi farà il culo Quindi ragazzi, l'ho fatto soltanto perché ovviamente non utilizzerò mai e poi mai le stregonerie Di conseguenza, don't worry Non ci servirà più a un cazzo questo tizio Quindi al massimo vediamo cos'ha, no? Però è forte, cazzo, cazzo Non dietro il muro Non dietro il muro Bevi, bevi, bevi Ah, aia, cazzo Ok, mi sa che è il boss così non lo possiamo affrontare Però vabbè Dettagli, signori, dettagli Io me ne vado di qua adesso Vaffanculo Oghi, cazzo E' davvero veloce questo ragazzino Vieni qui, vieni qui Vieni qui Ok, è crepato quasi, dai Ora prendo un'altra fiaschetta, vero? Non le ha finite E vai a cagare Vittoria, signori, vittoria E adesso mangerà il cemento Che cos'è? Goku ha perso i miei potenti Ceneri di Orbeck Ok, quindi probabilmente ci darà la sua armatura E cose del genere Cosa che assolutamente non ci servirà Perché ovviamente non siamo dei maghi Ha Zero sei un genio Almeno ci ha dato un po' di anime Che portava soprattutto a un altro piccolo tesorino Eccolo qua Pillola blu o pillola rossa Matex 2.0 Signori, quindi siamo arrivati in questo posto Più avanti ci sarà sicuramente il boss Che si trovava appunto in questa direzione Quindi facciamo Ah, cazzo, cazzo, cazzo Porca troia, porca troia Corri, corri Oh mio Dio Vabbè, la Madonna scesa in terra Chiama Giovannino Ragazzi, è sempre meglio avere un po' di aiuto Sempre Soprattutto quando ho pochissime fiaschette Vaffanculo l'orgoglio Che troviamo quando uccidiamo i boss Oh, lo devo affrontare da solo Il cazzo che ti frega Chiama il suo ciccio Chiama il ciccio Evocazione di un fantasma Signori, abbiamo solo quattro fiaschette Quindi ho deciso di chiamarlo Aspetteremo inequivocabilmente il suo arrivo Guardando un pilastro Ah, questi pilastri di oggi sono fatti sempre meglio Ma non questo Questo è accaduto Porca troia Dannati i fabbri No, zero Non sono i fabbri che lo fanno Dannati gli artigiani Vabbè, quello che cazzo sono Comunque l'ho chiamato Quindi a momenti dovrebbe arrivare Ragazzo Facciamo un po' di Moonwalking Mentre aspettiamo Ah, non lo so fare Cazzo Eccolo qui Guerrini del sole Ah, ok Quindi sei un guerrero del sole Sì, l'ho dato il sole, amico mio Lo diamo al sole insieme Salve Non so come si fanno i cosi Quindi Andiamo insieme Vai, cazzo Verso l'infinito d'oltre, ragazzi Andiamo Andiamo Signore Andiamo, cazzo Via Allora, il boss è questo qua Molto bello Ah, ok Saggio di cristallo Pensavo peggio Ho già visto qualcosina su YouTube di questo Per questo, ragazzi So già di che si tratta Se voi lo colpite Però lo Diciamo Ecco È molto scarso all'inizio Poi dopo Mi pare che lanci qualcosa Non ricordo bene Comunque non è caso E che cazzo Dov'è? Eccolo Tu acchiappa quello No, ok, è quello Cosa ho fatto? Mi sento strano No, vabbè Da solo, ragazzi È davvero facilissimo Battere, sul serio Poi in compagnia È ancora meglio Non lo farai Ok Proviamo ad andare Lo stesso cauti Anche se è molto semplice Da battere Però proviamo lo stesso A non fare cagate Dai, ragazzo Eeeh Che cazzo è adesso? Perché Mi sono usciti Ben tanti Ecco Ben tanti Se non sbaglio È quello viola Cioè perché gli altri Lanciano cose azzurre Mentre il viola È quello reale Quindi basta uccidere gli altri E andare contro questo qui È l'unico boss un po' più scarso Che ho mai trovato nel gioco Comunque One shot One kill Bacchese Vittoria fratello Yeeey Yeeey cazzo Yeeey cazzo Perfetto Signore Grazie mille Grazie Grazie mille Yes Yes Yeeey Sto scopando il terreno Amico mio Io scopo il terreno Va bene Ragazzi l'abbiamo ucciso Non serviva molto in realtà L'aiuto di qualche compagno Ma comunque L'abbiamo ucciso E va bene così Meglio di farlo da sole Ovviamente Quindi se c'è la possibilità Perché no signori Perché no Fallo acceso Così almeno vi ho fatto vedere Anche com'è il multiplayer Cooperativo Nello scorso episodio Avete visto quello Co-op Però contro Quindi no co-op Ma versus Insomma avete capito Cazzo Adesso vedremo invece Come ho già fatto vedere Quello cooperativo Detto ciò ragazzi Quindi proseguiamo Nella prossima strada L'unico problema Vero e proprio È che mi ricordo Che dietro c'era la strada Di quei due tizi Adesso non so più niente Perché avevo visto Questa piccola cosa Soltanto su youtube Di questo boss Perché non sapevo Se fosse veramente un boss Allora ho deciso Di vedere il prossimo boss E a quanto pare lo era Comunque non so Se tornare indietro E andare dal calciatore Oppure andare avanti Ma per quanto mi riguarda Penso Che questa qui Sia la via giusta Poi nel caso Se mi sbagliassi Comunque tornerò indietro E vedrò cosa c'è Non lo so Per il momento Mi sono soltanto Leggermente perso Quindi Uh aspetta Andiamo prima a destra Che ho visto qualcosa E poi ce ne andiamo avanti Quei cavalieri dietro Li affronterò casomai O per conto mio Oppure quando scoprirò Che questa strada Non porterà nulla Beh tornerò indietro E lo farò E a quanto pare Qui sopra c'è Tesoro Dove Dove è il tesoro È pazzo Ragazzi è pazzo È funestamente pazzo Quest'uomo Credo voglio solo Prendermi il culo Perché qui non c'è niente Vabbè non fu niente signore Andiamo avanti Bel salto vero Molto bello Bello e soprattutto artistico Comunque qui che c'è scritto Si ha fatto il felicità Sì facciamo il felicità Signore tutti assieme In ogni caso In ogni caso Proseguiamo su questa Bella via dritta Che non è di Dante Perché non è la via smarrita E c'è un ciccione Ciccione mi scusi Cosa sta facendo Non l'odi il sole Solo i veri Cacciatori del sole Possono farlo Anche se non so Chi sono i cacciatori del sole Ma non importa Signore venga qua cazzo Devo ammazzare Dai facciamo prima Ok Bam E intanto è morto Uno di quei cosini piccoli Perché come ha fatto Soprattutto Oh cazzo Non voglio gli abbracci Come ho sempre detto Quindi mai Aspetta E che cazzo Fatti prendere Giovanni Giovanni sei incazzato Giovanni Non ti incazzare Che poi ti mando Maddalena contro Non so chi sia Combatti Ok è morto Quindi fatto Anche quest'altro ammazzato Sinceramente Non so se tornare a casa Per livellare Perché ho davvero Tantissime anime Tipo mille No Dici mille Che cazzo mille E non lo so signori Aspettiamo un prossimo falò Oh salve vecchia Queste le odio A morte proprio Ah no E Backstab Cazzo te ridi vecchia Vieni qui Vieni qui vecchia Caccia di merda Ah Eh cat No Aia Mi ha dato una gomitata Aia Guarda la vecchia bastarda Vecchia bastarda Non mi avrai Così facilmente Ah Cazzo Questa vecchia È dura a morire Ragazzi Comunque un'altra piccola cosa Già è morta Tenete d'occhio il mio canale Domenica Sì dico bene La prossima domenica Perché ci sarà un solo Se solo avessi falò Sullievo No hai sbagliato Amico mio Comunque dicevo Tenete d'occhio il mio canale Domenica prossima Perché potrebbe arrivare Anzi arriverà sicuramente Uno dei giochi più belli O comunque una delle demo Dei giochi più belli Che dovrò comprare assolutamente E non è assolutamente GDR Né azione Quindi immaginate Che cos'è In ogni caso Ho trovato questa armatura Quindi vediamo un attimo Di cosa si tratta E se è più forte della nostra Vediamo un po' Armatura da Araldo È leggermente C'è molto più leggera Però non credo sia il caso Di utilizzarla È assolutamente no È troppo leggera Rispetto alle mie altre E la cosa potrebbe anche andare bene Ma è troppo Ma troppo Più debole Perché io per il momento Non sto usando neanche Quello da Cavaliere di Lotric Sto usando quello da Caduto Mischiato a quello da Cavaliere di Lotric Per potermi permettere Di utilizzare lo spadone E lo scudo nero Del cacciatore nero Di quel cazzo in culo nero Che ho già ucciso Che voi non avete visto Quindi signori Questo è quanto Andiamo avanti Falò più avanti Ma stai attento Un nemico temibile D'accordo fratello Buono Esatto Approvo Approvo Sono pronto? Sono pronto Sono anche un po' ticoso Cioè mi baggo con i tic Ok basta Un falò Ok Accendiamo il falò E ragazzi Mi sa che ci vediamo fra poco Dicevo per la terza volta Vado a livellare E ci vediamo fra poco Ed eccoci tornati Dopo un mare di cambiamenti Nel quale ho cambiato Per l'appunto la spada L'ho fatta diventare più forte Ho preso finalmente Il mio cazzo di arco E l'arco in Dark Souls È molto ma molto potente ragazzi Non scordatelo mai Comunque Ah C'è un tizio là sopra Bello con lo scudo Ah Ok Ma quanti cazzo Salve Voleva prendermi alle spalle Lei eh Ci ha provato Vieni qua Che cazzo sta facendo Non lo so sinceramente Vabbè Signore Venga qui Ah Non mi becca Si sta parando con il pugnale E mio dio La potenza sovraumana di quest'uomo È davvero una cosa incredibile Però per il momento Ecco Ci lancia Quanti cazzo di pugnali c'ha Oh no Quella posa la odio Quella posa la odio Ok So che mi togli la difesa ragazzi Lo so Diciamo che non è molto difficile da uccidere Anche se A volte si mette con queste pose davvero Ah Backstab Puttanella Ti farò mia È il momento giusto Ti trafici nel culo Vieni qua Vieni qua Non berrai mai La tua Pozione di Di ebreo Non so cosa ho detto Comunque Vieni qui Ok è morto D'accordo Non gli ho fatto prendere la pozione Molto molto meglio Altrimenti ci avremmo messo un'eternità a batterlo Dai cosa droppi Dai cosa droppi Ladro di merda Che non sei altro Oh mio dio Un coso Ok vediamo cosa c'è E Ceneri del paladino Aha Queste potrebbero essere interessanti Perché ovviamente Ho portato le ceneri Alla tizia della vecchia Cioè la tizia della vecchia Alla vecchia E non mi ha dato niente A parte cose magiche Come ovviamente sapevo Di quell'uomo che ho ucciso Quindi abbastanza inutile A mio parere Però Però Signori Qui potrebbe esserci qualcosa Oppure sono caduto Semplicemente Come un ebete E la domanda Rimane lì Non ho la più pallida idea Di dove io stia andando Mi sono perso Uh Scudo con simbolo Non so cosa serva Vabbè non fa niente Signore Salve Ah Aia cazzo Non mi beccherà mai Cioè mi sta beccando Da tre ore Però io la beccherò di più Ok fatto Sei incazzato Aha Allo scudo di Spider-Man Signori Allo scudo di Spider-Man Perché hai uno scudo di Sì 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 Molto bravo Davvero devo dire che Sì certo Muori E che cazzo Vieni qui Testa di banana Spagliarosa Vabbè sono morti Indignitosamente Come è giusto che sia Non Che sia Che cazzo sto a dire Non lo so Scudo da ragno Lo sapevo che c'entrava Spider-Man In ogni caso ragazzi Abbiamo preso tutto quello Che dovevamo prendere Fatemi vedere un attimo Quello che abbiamo preso Sopra la montagna Ovvero scudo figo Power Ah Ah Ma mi stai prendendo Ah perché non c'è un cazzo Giustamente Ok no Fa abbastanza cacare Cioè non è proprio Questa cosa così bella Però è molto ma molto leggero Vabbè in ogni caso Questo lo Spider-Man È proprio la pippa totale Andiamo avanti signori Non ci interessa Quello che sta succedendo qui E come fanno a morire Così tante persone In questi posti Così davvero Facili da fare Un cane Vieni qui cane Ok il cane è morto Che cazzo Frecce Ah non capisco un cazzo Dove devo andare Ok lì Grazie fratello Grazie mille davvero Sti cazzo di cani Che escono dalle fottute pareti Basta cane Hai rotto i coglioni Tu e quelli con le frecce Allora no 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 Corri 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 Sotto Dove sto Non lo so Aspetta Le trincee Vai sotto le trincee Sotto le trincee Nessuno ti prenderà Stai tranquillo E adesso Usciamo fuori pian piano Facendo Ah Volevi Ui la peppa L'ho schivata Con l'anca destra Mio dio Vieni qui Beccato Ok noi scriviamo tutto Con le anche destra e sinistra Non si capisce una sega qua Oh E che cazzo Non vedo niente Che bello Vieni qui cane del cazzo Perfetto cane del cazzo Perfetto Allora qui non c'è niente Tranne questa anima E quest'uomo Che continuava a sparare In perterrito Grande anima Di viandante ignoto Anche molto utile Questa ma a noi non interessa Perché c'è un muro Che bello i muri ragazzi Vorrei prendere le spadate Dalla mattina alla sera Ehi Che bel posto Non è per niente triste Ed è molto soleggiato Come il culo Che cazzo sta fa? Ehm No 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 Che cazzo Ok Va bene C'è quella bella stradina Questo che prega Non devi pregare Non si prega Solo i testimoni Di geolo Lo possono fare I cristiani E tutti quanti Poi c'è Falò più avanti Ah E c'è un animale là sopra C'è un sacco di roba cazzo Un sacco di strada Falò più avanti Ok Dicono due Quindi Penso sia veritiero Signori Accezza scommesse Quanto puntate? Tre sul jack Tre sul jack Cazzo Ecco lì C'è un falò A quanto pare aveva una ragione E io faccio Ah Per Per segno di vittoria Però qui dietro ho visto qualcosa Un momento Una nimuccia di sfuggita ho visto Vero? Yes L'ha vista da falco Frusta dentata Che figo Aspetta la voglio provare Sicuramente non avrò le capacità per farlo Perché ecco Destrezza 19 E fa pure abbastanza cacare Però Ah Ah Geppetto Roberta Ok Fa abbastanza schifo anche il moveset Non importa signori Riprendiamoci la nostra bella spada Deertil E proseguiamo Verso i nostri Uh Una porta Fa vedere Fa vedere Non si apre questo lato E ti pareva Una porta fantasma Signori Ha avuto uno spasmo muscolare E qui c'è Il nostro falò Falò al ceso Be cheese Qui c'è Bel lavoro Grazie Quanta gente c'è Rarahan No on Quello E allora di là E di là non si può andare Quindi l'unica strada Veramente percorribile Sarebbe tornare indietro E andare dritto Visione di ammaliatore Bugiardo richiesto dopo Ah Chi è il bugiardo Però un momento Signori andate a cagare Signori Andate a cagare Perfetto Ho fatto una strage Scheggia di Estus Ottimo Adesso abbiamo addirittura Otto fiaschette Quindi Wow Wow E dicendo Wow Non intendo World of Warcraft Vabbè Qui c'è un dilupo Però probabilmente Ci sono cose Ok Uno è morto Ci sono cose alternative Là davanti Mmm Bello Sì sì Molto bello Vediamo Oh cazzo No sono troppi Momento 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 Colpisci Colpisci Ah Colpisci Ho fatto un backstep Uno scheletro nel pene Che non ha Che bello No 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 Che schifo Sta vomitando Ma Sbuccono da sottoterra Questi Quanti cazzo ce ne sono Basta Sono scarsissimi Sì dicevo Secondo me sono infiniti Perché escono da sottoterra E poi Continuano ad uscire Ad uscire Ad uscire E danno 20 Expa alla volta Davvero la cosa più inutile Di sempre Dai crepa Scheletro di merda Non sei destinato a vivere Su questa terra Su infiniti Sti gran cazzi Andiamo davanti E Voila Ho fatto la finta Signore Ho fatto la finta Dove sto andando Mi sono perso Mi sono perso Ah Ah Uno scheletro Aspetta Spadune di astora Ehi perché no Dovevo vederlo Prima o poi Oh mio dio Ragazzi Uh Non capisco più niente Non so dove andare Mi sono perso completamente Questo posto è un labirinto del cazzo Dovrei farmelo con tranquillità E da solo Piuttosto che farlo su youtube Ah Oh cazzo Stavo per morire Molto bello Sì ok mi sono perso Basta Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Perché per il momento Noi ci fermiamo qui Potrebbe essere venuto un po' più piccolo Rispetto al solito Credo un 13-15 minuti Non ne ho idea Però vabbè Spero che il video vi sia piaciuto Se sì ovviamente Mettete mi piace Condividete Commentate Ed iscrivetevi E la prossima volta Andremo di qua Quindi un saluto a tutti E al prossimo video Bye bye Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.